E ora la volta di uno strabiliante gruppo! Signore e signori, ecco a voi Johnny Miao e i suoi due bau bau! Johnny Miao e i suoi due bau bau! Ragazzi siete stati formidabili! E tu hai fatto pena! Ancora un concorrente e poi incasseremo i nostri mille dollari! L'ultimo concorrente di stasera è Bob, il cane meraviglia, che suonerà cinque! Voi avete capito bene? Cinque strumenti contemporaneamente! Oh no! Che vi dicevo? Temo che il concorrente debba essere squalificato! Bene, questo era l'ultimo numero! Adesso sta al pubblico stabilire chi sarà il vincitore di questa settimana! Tutti concorrenti sul palcoscenico, prego! Ci siamo! Che la fortuna ci assista! Lorenzo è la sua Greta! Peter è il suo pappagallo pendente! Nonna Fogarty è la sua sbalorditiva Pitti! Booo! Erby e le sue cinque colombe ballerine! Booo! Johnny Miao e i suoi due bau bau! Il nostro pubblico dichiara vincitori! Johnny Miao e i suoi due bau bau! No! 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 No!